Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo, bellissimo, tantissimo video Poi misteriore, io vabbè Ragazzi oggi ci siamo nella seconda puntata di infilarsi in un airship E cerchiamo di fare una seconda fine Quindi un finale diverso dal solito fatto Quindi cominciamo a tutto Anzitutto ragazzi, oh ieri Mi dispiace che questo weekend non ho fatto il video In teoria anche oggi non dovevo uscire il video Ma l'ho dovuto fare perché cioè Non riuscivo a stare senza Non mi veniva di fare un altro Quindi ho trovato tempo, ho trovato una stanza libera E posso fare il video Quindi cominciamo subito con la seconda parte Oddio La storia la sapete, lui viene da una famiglia di lezioni Un attimino, devo abbassare volume Ok cominciamo subito Io prenderei per la stick end Oddio Ci sono? Sì ci sono, vai andiamo Ok Zero point energy Vabbè io vado per questa No No niente Non ho sentito niente Ma forse ha vinto Forse ha vinto Cioè Oh Ho già finito così Due secondi No 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 Per un attimo ci avevo creduto Ci ho già finito in due pa- Cioè Due Affascuro Vabbè faccio zero point energy Se io faccio questo Io l'ho provato Per lui No Ne proviamo un attimo Vediamo un attimo Quindi c'è un teddy bear Vediamo che cosa si fa Ok Ah allora Cominciamo da capo Secondo me Non può funzionare Non è una bolla Mi sa che anche questa è sbagliata Ma esiste una seconda fila o no? Ah Funziona 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 Ok Si arriva Arriva Uso Il laser No Non è la scelta migliore Ok Retro Ma c'è È sempre la cosa più stupida Che fa la differenza Tipo questa Ok Sono andato avanti Ah No Quella sono io No Quella è una Un altro Dice che Deve aumentare La security Ecco Quella si Che sono arrivando io Che cazzo sta facendo Oh Eh beh Hey jet Ah Si Ho funzionato Ok dai Scappa Scappa Oddio Sta chiudendo le porte Cazzo faccio Cazzo faccio Eh No Cazzo Cazzo Vetterai Dai dai Muoviti 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 Non capito Anch'io Che cazzo Bisogna fare Ah sta chiudendo le porte Tutte quante Poi Mental Ah il pugno di ferro Pugno di ferro Allora Allora è la ultima È la solita catastrofe Cazzo Allora Ok sta chiudendo le porte Come prima Ehm Warp E dove cazzo Sarei finito Davanti a lui Ma no Non si può fare un cazzo C'è Ma ragazzi Io non li so Vabbè Facciamo da capo anche questa volta Io non li so Capete come cazzo si fa Fa la seconda parte Vabbè Adesso cambio Vado con la Gumbagrand Come ero dato prima Quindi Io voglio la seconda parte Esiste sempre una seconda parte Aspettare Joy Buzzer E spenni fuori Io farei Vediamo questo Ecco va Fa il culo La bomba Esploderai in faccia Giusto Eccorai Ah forse la wait Le dovrò fare Ok Adesso devo fare qualcosa Interessante Ok Se vado su computer Sto appassita C'è cazzo terciato No E' un scemo Ma dai Un videogioco Vabbè Duro Dentro qua No C'era già entrato Vero C'era già entrato Ma che palle No 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 Ragazzi è meglio No Adesso c'è un'idea Adesso che ci penso Adesso faccio una cazzata Maggi Voglio ricominciare da capo Ah Mi ha colpito Sono colpi bassi Eh Stato Stato Aspettiamo ragazzi Vorrei fare un attimo Attenzione E spensi Dove cazzo si va Ah ci sono arrivato Ma dai Che menti Ok Allora La wait Dovevo fare Ok Not not Wasium Acido Facciamo No Non ha funzionato Ah Ha funzionato Sì Andiamo Ok C'è qualche Criminalità Speriamo che questa Non finisce in mezzo Cioè Tutte e tre Non funziona Anche ora Ok Qui ci sono Dei gangster Della mignotta Ok Cosa faccio a fare Distrazione Clue Andiamo alla giù Cosa funziona sempre Ok E Ha funzionato Adesso Ragazzi Ne sto Ah scoleggiata Ne sto facendo Una dopo l'altra Alla perfezione Ok Qui c'è una Merda Ok Che cazzo Si può fare Con lui Ok Oltre Remote access Mind control Che è sempre La cosa Non dimmi Che ha funzionato Ancora Sì No Cazzarola Retrai Ozza mosce Ha funzionato Sì Ragazzi Oggi sta andando Tutto il culo Tranne i primi episodi Falla a pezzi Uccidere Spur Ah funziona Hello mister spider Ma che cazzo Ok Quindi Guardati intorno Oddio Dove cazzo sono lì No No Eh fail Facciamo Un'attenzione A questa missione Ok Mi ha sparato A casa Funziona No Ah funziona Funzionato Funzionato Ok Qui È il verdetto Oddio Banana Banana Mi ha scoppiato No Retterai un bello Facciamo un pozzo Gianna Ok Oddio Oh Funzionato Dai 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 Oddio Ma che è questo Check notice No check notice Non c'ha baffi così Oddio No No Fermi 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 Ok Ragazzi L'abbiamo finita Adesso lo so Ecco Ah ho capito Ma che bella fine Ragazzi La seconda fine Intendeva che non rubiamo i diamanti Ma andiamo senza diamanti Quindi ci salviamo Quindi Siamo rimasti anonimi Quindi Direi che La serie Stickman È finita qui Se ne ho avuto altri video Diverse Tipo Quello di rubare i diamanti Dal museo Quello di Cioè Scappare dalla prigione Vuole le le più famose Di queste Scrivetemi nei commenti E ragazzi Vi dico una cosa Domani O forse Sì dopo domani Uscirà La mia prima challenge Del canale Challenge È piuttosto strana Perché non la fanno Più in tanti Beh ragazzi Non vi posso dire altro Ci vediamo al prossimo video Bella A tutti Ciao